E' Monsignor Alessandro Ciocia, il lucano illustre che il comune di Salandra ha candidato quale nuovo personaggio del centro Nino Calice Museo dell'Immigrazione Lucana di Castella Gopesole. La presentazione della proposta di candidatura è avvenuta attraverso un seminario di studio che si è tenuto giovedì 27 dicembre nell'Aula Consigliare alla presenza della cittadinanza. Al tavolo della conferenza era presente il sindaco Gianfranco Tubito, il coordinatore del Museo Luigi Scaglione, la presidente dell'Associazione Mondi Lucani Maria Raffaella Magistro, moderati da Maria Andriulli. Erano presenti i rappresentanti religiosi, militari, i consiglieri regionali Francesco Mollica, Giuseppe Soranno e il funzionario Rocco Romaniello. Prima dell'inizio del seminario l'attore Giuseppe Ragone ha dato lettura della dedica affettuosa che la comunità di Salandra rivolse a Monsignor Ciocia negli anni 50 durante uno dei suoi tanti viaggi in visita alla famiglia. Un salandrese illustre, ha detto il sindaco, che oltre ad aver avuto un ruolo importante in terra d'America, sempre al fianco dei nostri emigranti, con la costruzione dell'asilo a Salandra ha lasciato un segno tangibile alla comunità, oltre ad aver mantenuto sempre i legami con il paese natio, anche attraverso il rapporto fraterno con il venerabile Monsignor Raffaello delle Nocche. Lo studio su Monsignor Ciocia è stato possibile grazie al progetto Valorizzazione di un Lucano Illustre della Regione Basilicata, presentato dal Comune di Salandra e affidato all'Associazione Mondi Lucani di Monte Scaglioso. Lo storico Giovanni Quaranta della Mondi Lucani ha condotto una ricerca attenta e scrupolosa negli archivi italiani ed americani, ricerca arricchita anche dai documenti gentilmente concessi dalla famiglia Ciocia e che Quaranta ha presentato in modo chiaro e preciso. La Presidente dell'Associazione nel suo intervento si è soffermata sul ruolo della Chiesa italiana e degli scalambriniani nelle Little Italy americane, che ricreavano in qualche modo i luoghi d'origine, alleggerendo così il difficile adattamento e inserimento in una terra straniera e a volte matrigna. Monsignor Ciocia nasce a Salandra nel 1884 in una famiglia che, vista la vocazione, gli permette di studiare prima presso il Pontificio Collegio Leoniano e poi presso l'Istituto Pontificio della Pollinare. Dopo l'ordinazione sacerdotale, a 23 anni, continua gli studi di sociologia a Bergamo e poi presso la Georgetown University di Roma. La collaborazione con il Commissariato Generale dell'Emigrazione e con i missionari scalambriniani, che si occupano degli emigrati italiani nel mondo, lo porta a far parte della Società dei Missionari di Emigrazione di Sant'Antonio da Padova, per l'assistenza spirituale e materiale degli emigrati sui piroscafi durante le traversate oceaniche. destinato a operare quale missionario nell'America del Sud, Don Alessandro però decide autonomamente di raggiungere New York, ma questo gli costa la sospensione a Divinis, anche se in seguito viene riabilitato e destinato finalmente a svolgere la sua azione evangelica negli Stati Uniti. A Brooklyn, dove opera con maggiore frequenza, dal 1919 si guadagna il giudizio di Very Eloquent Speaker per le sue capacità oratorie e ricopre per il resto della sua vita un ruolo fondamentale, oltre che di uomo di chiesa e di grande cultura, anche di sostenitore dei diritti e dei bisogni dei nostri emigrati, preservando cultura e tradizioni. Dal 1933 al 1960 dirige il settimanale Il Crociato, nei cui articoli si presentava l'azione della Chiesa Cattolica dei due emisferi. Muore nel 1964 e la sua salma viene portata a Salandra nella tomba di famiglia. Maria Antonietta Lisanti ha letto uno stralcio del primo numero del giornale, Il Crociato, dove emerge la centralità della Chiesa e di Roma. Io ci tenevo parecchio, cioè ci tenevo parecchio la comunità di Salandra a riprendere un discorso, a ripescare, se vogliamo usare questo termine, ripescare un personaggio che era caduto un po' nell'obbligo, un po' dimenticato e secondo me non era assolutamente giusto che questa persona che come abbiamo visto ha dato veramente tanto a Salandra, alla Basilicata in termini appunto di realizzazione di opere molto importanti non fosse tenuto nella dovuta considerazione. È stato lui un emigrante, anche se come è stato evidenziato, non è stata un'emigrazione per necessità, bensì ha seguito tutto un altro percorso, un'altra strada, essendo stato lui diciamo inizialmente una sorta di missionario, anche se sappiamo appunto, come abbiamo avuto modo di sapere, perché noi non avevamo notizie in merito, che era destinato a Sud America e invece lui si è regato nel Nord America. È una storia di emigrazione, un emigrante che poi è stato vicino agli altri emigranti. Ecco, lui vivendo questa situazione, seppur in maniera diversa, lui sapeva bene che cosa significava a lasciare la propria terra e andare in un'altra nazione, seppur una nazione ricca ed opulente, qual era quella dell'America, dove però i nostri concittadini non è che godevano di tutte le simpatie degli americani. Una personalità riconosciuta negli ambienti americani che contavano, che non perdeva occasione per difendere i diritti degli emigranti contestando quelle leggi sull'immigrazione, che limitavano il numero di ingresso degli immigrati in America, compresi gli italiani. Monsignor Ciocia è stato ricordato dalla nipote Rosa, che lo ha definito come un uomo dagli ampi orizzonti, dedito ad aiutare i poveri, come ha ricordato anche Suor Concettina, delle discepole di Gesù Eucaristico, che ha fatto un appello affinché le istituzioni sostengono le necessità dell'asilo voluto da Monsignor Ciocia. Appello che è stato raccolto dal consigliere regionale Soranno, che ha apprezzato l'iniziativa dell'amministrazione comunale nel voler valorizzare una figura importante di Salandra che merita di essere meglio conosciuta. Dell'importanza di valorizzare le personalità lucane emigrate nel mondo ha parlato Luigi Scaglione, presentando l'attività del Museo dell'Emigrazione Lucana di Castellago Pesole, che ha già avuto 10.000 visite, raccontando attraverso 14 storie l'emigrazione lucana e facendo riscoprire personaggi come Rocco Perrone, Entonici Librizi, ma anche donne straordinarie come Rosa Muscio e Rosita Melo. Storie a cui oggi si aggiunge quella di un uomo di chiesa come Monsignor Ciocia. È un'emigrazione diversa dalle altre che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando insieme a voi. Però è un pezzo della storia della nostra regione, un religioso che si afferma in una comunità come quella italo-americana, diventa protagonista di quella storia e se vogliamo anche in maniera molto intelligente produce effetti positivi sul territorio lucano attraverso le possibilità economiche che quella realtà offriva, significa che c'è qualcosa anche di diverso in questa storia. A noi interessa andare a tutto tondo alla verifica dei personaggi perché la storia dell'emigrazione è una storia fatta di storie, scusate la ripetizione, e parlare attraverso le voci, i racconti, gli esempi conta molto di più di quello che possiamo fare raccontando in maniera statica. Il Museo di Lago Pesolo è fatto di questo, di un percorso virtuale, di un passaporto con il quale si fa un viaggio. La storia di Monsignor Ciocia è una di quelle belle storie sulle cui poter costruire un racconto, anche guardando al domani, ma soprattutto rileggere la storia di oggi attraverso quelle vicende. A concludere i lavori del seminario è stato il consigliere regionale Francesco Mollica, che ha ripercorso le attività della Commissione Lucani nel mondo e l'importanza delle associazioni di Lucani che rappresentano i veri ambasciatori della nostra cultura. Quella che è la storia di Monsignor Ciocia è esattamente ciò che riesprime la comunità lucana, i sentimenti che vengono provati dalla comunità lucana e quello che la comunità lucana ha fatto non solo all'interno dei propri confini, ma anche fuori dai propri confini. Monsignor Ciocia lo ha fatto negli Stati Uniti, a Brooklyn, lo ha fatto in America, ma altre persone lo fanno in tanti altri paesi del mondo, lì dove portano in alto il nome dei lucani e portano in alto quello che è l'indole dei lucani stessi. Per cui questo progetto di ricerca porta esattamente non solo a riannodare i fili delle radici fra personaggi che hanno vissuto un momento brutto come quello delle migrazioni, ma per portarli a pensare, a far ragionare nell'attualità anche le persone che in questo momento vivono altre emigrazioni e migrazioni, soprattutto quelle delle migrazioni, perché quello che noi abbiamo vissuto deve insegnarci che molte volte, seppur modificato, vanno portate avanti queste politiche. L'immigrazione non si può bloccare, non sarebbe potuto esserlo e non si sarebbe potuto bloccare quella che è stata alla fine degli anni Ottocento, agli inizi del Novecento, nel subito dopoguerra, quello che non riusciremo e non si può bloccare, anche se con regole più ferre e più precise, ma che deve per forza trovare quei sentimenti che hanno visto i nostri lucani essere accolti e lavorare all'estero.